Ciao a tutti e bentornati sul mio canale! Come state? Spero stiate tutti bene! Oggi vorrei parlarvi dell'interrogazione in italiano, ovvero di come formare le domande. Avete votato questo argomento sul mio profilo Instagram, quindi se volete votare gli argomenti per le prossime video-lezioni, potete seguirmi su Instagram. Possiamo distinguere due tipologie di domanda a seconda del tipo di risposta. Abbiamo le domande a risposta binaria, alle quali si può rispondere sì oppure no, ma anche non lo so è una risposta possibile. E poi abbiamo le domande aperte, alle quali si può rispondere con una frase più articolata, ma comunque specifica. Generalmente le domande a risposta sì oppure no iniziano sempre con un verbo. Ad esempio, vai al cinema oggi? Il verbo è in prima posizione perché, come sapete, in italiano non è obbligatorio esplicitare il pronome soggetto. Ma se fosse necessario esplicitarlo, il pronome soggetto sarebbe all'inizio della domanda. Questa tipologia di domanda non ha una struttura specifica, perciò ciò che è importante è la prosodia, ovvero l'intonazione che si dà alla frase. Vediamo degli esempi. Vai al cinema oggi? Vai al cinema oggi? Intonazione ascendente, quindi salgo con il tono della voce. La struttura della domanda non cambia dalla struttura della frase affermativa, è perciò molto importante dare l'intonazione giusta. Vai al cinema oggi? Per quanto riguarda le domande che chiamiamo aperte, in questo caso abbiamo delle parole interrogative che ci aiutano a strutturare la domanda. Perciò in questo caso l'intonazione non è determinante, come nel caso precedente. Le parole che ci servono per formare queste domande sono chi, che cosa, quale, dove, come, quando, perché. Nella frase chi ha telefonato io so che si tratta di una domanda perché al primo posto ho il pronome interrogativo chi, quindi non ho bisogno di marcare l'intonazione. Posso dire chi ha telefonato oppure chi ha telefonato, ok? In entrambi i casi io so che si tratta di una domanda perché la domanda o la frase inizia con un pronome interrogativo, quindi non ho bisogno necessariamente di marcare l'intonazione ascendente tipica della domanda. Queste di cui abbiamo parlato in questo video sono frasi interrogative dirette, cioè domande esplicite che terminano con un punto interrogativo, quindi con un segno grafico di punteggiatura. Queste due tipologie sono le domande dirette che utilizziamo in italiano. Spero che questo video vi sia utile e se volete lasciate le vostre domande nei commenti qui sotto. Grazie per aver guardato questo video, noi ci vediamo nel prossimo. A presto, ciao! Ciao!